stiamo uscendo sta aspettando simone da tipo mezz'ora fa freddissimo stiamo andando al moba secret party ma che cazzo succede? bro sei solo ubriaco non c'è niente non c'è nulla è un drago no no bro te lo stai immaginando a stare ciucco adesso io però devo andare un attimo da glauco a parlare con un amichetto e poi torno a casa andiamo a beccare polina prank al rosso appena chiamato l'ascensore adesso si apre bellissimo è un giorno molto importante per noi io sono molto eccitato siamo molto eccitato gasati sono gasato siamo molto gasati stiamo per andare a vedere per la prima volta polina ma lei non c'è che di cosca mamma mia che sorca porca puttana e se sei brutta? no è impossibile come la saluti? bacio bocca cioè bacio saluto palpata di culo ma dai mo la chiamiamo vi facciamo sapere ragazzi guardate siamo quasi arrivati vai 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 pure io c'è una gomma scusami scusa scusa c'è una gomma una gomma una gomma scusa grazie edificio? se non mi vedi su instagram è perchè ho disattivato un attimo il profilo ah ok però sono su tiktok ok ok quanto vuoi? no niente perchè? no pensavo volessi dei soldi non avevo capito? no 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 tanto tu fai già tanti soldi no no ma se ti serve qualcosa dimmi pure chi te l'ha detto? mi hanno detto 50.000 euro al mese ma vuoi qualcosa? vabbè ma non ci do dimmi quanti soldi vorresti a caso poi te li do 10.000 va bene e vabbè girami in Liban girami in Liban dai va bene va bene ciao vai chiama 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 che dì sei avvestito questi soldi che c'erano polina noi siamo sotto figo dove sei? va bene va bene tacchi brettore per lei che si aspetta di uscire lei? ah lei vuole fare una passeggiata un giro tipo dove andiamo? con due con sta macchina dove andiamo? mi ha mostrato il caffè sì io volevo il caffè ma non ci può stare dentro eh? però te ti sei no quello qua no che toghi sta ma lascia il tuo ma risparmi in tre tu sei raga carissimo tieni prego 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 oppla frate frate l'abbiamo portata a pranzo fuori guarda che cazzo c'è ordina l'abbiamo portata in un posto costoso fago io che dici frate? eh? ci vuole bene? porca di quella droga tu hai capito cosa devi dire? sì cosa devi dire? ho fatto la vendita tutto quest'anno ok sfumano gli elfi tutto quest'anno tu no questa gli elfi non se ne vanno ora fai finta che stai per morire ipoteticamente tu ora ok? e devi scegliere con chi passare il resto della tua vita quindi fidanzarti sposarti baciare questa persona per sempre tra me Valerio e Tank chi scegli? vai adesso uccidiamo Tank ok? uno lo deve sposare uno lo deve baciare uno lo deve ammazzare tra me Tank e morto adesso chiede un po' di suspense e Mary vabbè io me la collo sincero anche io me la collo va bene qua sotto sto andando a vedere l'ufficio roba di aperitivo Tank sta flertando come al solito ragazzi ogni giorno va in perpola Tank è il nuovo me sono veramente fiero di lui un pochino di after party e ora andiamo a casa ok ho il 3% sta piovendo sono solo in mezzo ai parcheggi del forum e devo capir dov'è la macchina solo questo speriamo di sopravvivere vi aggiorno ragazzi capello fatto ora pausa benzina poi ci andiamo a fare sopracciglia manicure pedicure oggi giornata dove mi prendo cura di me stesso spendendo 100 euro di benzina dai mi è venuta a trovare la mia pupina perché a mezzanotte esce la canzone e e e e e e chiude tra 20 minuti la sbrigadina ma no frutta no non frutta la torta mi devi prendere la torta quelle di frutta eccole ci si chiama tipo un muffin un mini muffin capito dai prendi muffin dai mini muffin questi facciamo un piatto di muffin ma non ti piace il cioccolato la nostra party non è più dentro sa dove stanno le candeline grazie grazie rosa blu blu baby shower per noi io un fio lo vorrei io voglio le caldine io vorrei un fio ma non è male release party dell'anno no come adesso non ci vediamo hai detto il numero fortunato 7 poi le mettine una no dai le metto 7 4 3 2 1 vai lei vediamo non ci vediamo se non ci vediamo svezzano in una svezzano in una come molti di voi sanno io ho una telecamera in camera e 40 minuti dopo ha ripreso esattamente questo No perché mi hai tirato lì Sei scemo Ma tu vuoi da quello? Piccolo outro finale per dirvi che Finalmente è uscita la mia canzone Quindi mi raccomando andate su Spotify Cercate Valerio Mazzai È uscita la canzone che si chiama Senza Te Lasciatela in loop tutta la notte Arriviamo a 100.000 stream in una settimana Seguitemi su Instagram I ragazzi dailyvlog di Milano vi stanno piacendo tantissimo Quindi fermate il video Andate giù mettete like e commentate adesso Tipo voglio che dailyvlog di Milano continuino Non sto in fissa Appena questo video c'ha 150 commenti Esce il prossimo video dove tank bacia Polina Follia In più sto organizzando due viaggi insieme Uno con due di voi E uno per i cavoli miei Per questa canzone Quindi restate sintonizzati Andatela ad ascoltare Fidatevi di me Ci saranno delle conseguenze Mi mettete like Iscrivetevi e commentate Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao